Figlia d'arte di Enzo Pagnani, sceneggiatore e scrittore, e Gilda Lante, costumista e stilista. Segue sin da piccola i genitori in tutti i loro lavori e impara subito a vivere di spettacolo. Si diploma in danza e teatro contemporaneo a Parigi. Studia filosofia e religioni dell'India e dell'Estremo Oriente. A New York prosegue gli studi di danza presso l'Alvinayli. Si specializza in recitazione cinematografica e televisiva presso gli HB Studios. Privatamente studia con Teddy Sherman e Shelly Withers a Los Angeles. Nel frattempo, inizia un suo percorso artistico lavorando con compagnie di spettacolo. Diventa prima ballerina italiana dei Momix per il loro tour mondiale. Ha collaborato alle coreografie del Cirque du Soleil a Monreale e ha anche ballato come prima. Ballerina al National Tete di Monaco di Baviera sotto la direzione di Lina Wirtmuller e Del. Direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli. Successivamente lavora con Ettore Scola. José Dayan, Carlo Vanzina, Angelo, Pier Francesco Pingitore, Antonio Capuano, Neri Parenti, Angelo Longoni, Fabrizio Costa, Andrea Costantini, Enrico Olduini, Luca Manfredi, Lina Wirtmuller, Vittorio Gasman, Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Enrico Brignano, Alessandro Gasman, Rocco Papaleo, Shelly Winters, Virna Lisi, Nancy Brilli, Manuela Arcuri, Terence Hill, Giulio Base. Viene scelta da John Turturro per Ok Garage. È stata inoltre testimonial della Lavazza. Ha lavorato per due anni consecutivi al Maurizio Costanzo Show e a Buona Domenica e altre. Trasmissioni. Contemporaneamente lavora per serie televisive come Capri. Commedie. Sope Polizieschi. Con Enrico Montesano. Marco Columbro. Barbara De Rossi. Blas Rocarei. Nino Manfredi. Ha collaborato con la Rai International di New York in diversi programmi conducendone uno. Op Italia. Ha collaborato come giornalista per una rivista via Condotti. Dopo una pausa per maternità è stata scelta dal regista Andrea Costantini per la nuova serie di Rex. Lavora anche nella serie Cesaroni. Nel 2011 è di scena al teatro Quirino con lo spettacolo La Romanità perduta. Dove interpreta Anna Magnani che si racconta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.